Il 22,4% delle imprese attive in Sardegna è a guida femminile, un dato che pone l'isola in linea con i numeri nazionali e quanto emerge da uno studio della Confesercenti Sardegna che ha elaborato i dati forniti all'osservatorio Union Camere e Info Camere contenuti nel terzo rapporto nazionale sull'imprenditoria femminile. Dal report risulta che sono 37.398 le imprese rosa nell'isola e la provincia di Nure intesta la classifica sarda col 24% del totale. I settori principali sono rappresentati da quello artigianale che conta oltre le 6.400 imprese a conduzione femminile ma forte è la presenza di aziende rosa nella cultura e nei servizi alla persona, nel commercio con un'apertura alla tecnologia e alle telecomunicazioni. Un dato confortante è quello dell'età media delle imprenditrici che si sta abbassando con l'ingresso di nuove leve. Le donne imprenditrici sotto i 35 anni rappresentano il 14% del totale con Nuora ancora una volta in testa la classifica. Dallo studio della Confesercenti risulta che l'imprenditoria giovanile è particolarmente elevata in settori come l'alloggio, la ristorazione, i servizi turistici e alla persona, ma anche la cultura e l'intrattenimento. Sono invece 1.300 le realtà cooperativi femminili. Naturalmente per tutte le realtà si parla soprattutto di microimprese che restano spesso a conduzione individuale o con l'impiego di pochi addetti, sottolinea Gian Battista Piana, direttore della Confesercenti Sardegna, una condizione spesso dovuta ai tanti ostacoli che affrontano le imprese di ridotte dimensioni in termini soprattutto di accesso al credito, di investimenti e di internazionalizzazione. Quanto all'imprenditoria straniera al femminile in Sardegna, la Cina è in testa alla classifica con 2.182 attività seguita da Romania e Marocco. Grazie a tutti.